Stato di agitazione all'industriale Sud IMR con sciopero degli straordinari e l'attivazione di un pacchetto di 16 ore di sciopero da gestire di concerto con le RSU. E' il quadro emerso dopo l'assemblea dei lavoratori che chiedono garanzie per il futuro esprimendo un giudizio negativo sul comportamento dell'azienda fino ad oggi. L'industria ricordiamo fa parte di un gruppo leader nel settore automobilistico per la produzione di interni per auto e che conta oltre 400 addetti nello stabilimento di San Nicolò a Teramo. A fronte di un'assemblea molto frequentata dai lavoratori dell'industriale Sud abbiamo avuto mandato chiaramente di poter iniziare a fare delle iniziative sindacali a fronte del fatto che nonostante avressimo mandato una mail proprio il giorno prima dell'assemblea per chiedere un incontro con l'azienda che nei tavoli istituzionali regionali ci dissero che sarebbe passata una settimana e avrebbero fatto le 30 stabilizzazioni nonché riapertura del tavolo del contratto integrativo di secondo livello e ci avrebbero detto qual era il programma industriale del sito industriale di Sud di Teramo. Tutto ciò non è avvenuto. Chiaramente il mandato dell'assemblea è quello di andare avanti, cercare di mettere in piedi le prime iniziative sindacali e vedere se si smuove qualcosa a livello aziendale, altrimenti siamo pronti con tutti i dipendenti ad andare avanti con queste iniziative anche leggermente più pesanti. A preoccupare sindacati e lavoratori il piano industriale e il posizionamento strategico del sito di Teramo in relazione alle recenti acquisizioni realizzate dal gruppo Brianzolo. Sono 140 i lavoratori con contratti scadenza che rischiano di rimanere a casa per un possibile spostamento della produzione. Allora, questo discorso del rischio, siccome siamo stati tacciati di falsità la prima volta, a onor del vero io ho detto che non è che l'azienda è in crisi. Ho detto chiaramente che se l'azienda comincia a spostare delle produzioni nei siti di Rieti o Iesi, i 140 contratti interinali che sono qui a Teramo rischiano praticamente di saltare, perché nelle altre parti ci sono contratti a tempo indeterminato. Qui c'è questo cuscinetto di 140-150 persone a cui sicuramente in caso di crisi l'azienda attinge, ma non è che l'azienda è in crisi, sposta le lavorazioni, per cui c'è un esubero di personale e se ci sarà sarà qui a Teramo e non ce lo possono permettere. Grazie.